E' Iga Sujatek a vincere il Roland Garros. Già lo vinse nell'anno 2020, due anni fa di tempo, la bella ragazza che ha soli 21 anni d'età e di origini polacchi nella finale va a battere Coco Gauff, americana, nella sua prima finale di No Slam. E' una partita senza storie che si chiude in circa 60 più 8 minuti, quindi 68 minuti in totale, in due set, se 6 a 1, 6 a 3, è il punteggio finale che per l'appunto viene ad essere raggiunto. La bella polacca quindi si va a confermare come la numero 1 del mondo e questo è un risultato che ha ovviamente di percussioni buone e positive su idee che comunque possiamo considerare, secondo me, come una tenista veramente di grande importanza. Vi ringrazio in primis per la visione, in secondis per l'ascolto di questo video di oggi utenti di YouTube, iscrivetevi se vi va commentati. Ciao a tutti e una buona giornata pure.